Autoofficina Corradini e Cisa sono sempre al tuo fianco. Contrasta insieme a noi la diffusione del Covid-19 e sanifica aree esterne, interne e veicoli. Interveniamo in tutta Italia per lavaggio di aree pubbliche, irrorazione con nebulizzatori disinfettanti, sanificazione all'interno dei locali e dei veicoli. Usiamo in esclusiva trattamenti Cisa 100% sicuri, ecosostenibili e certificati. Per la sanificazione della tua azienda, chiama Autoofficina Corradini 0522 51 46 46. Autoofficina Corradini, i numeri 1 del soccorso.